Una lunga notte di preghiera cominciata alle ore 23 del giovedì santo è concluso al mattino del venerdì di passione. Il culto della Vergine addolorata nonostante la pandemia si è rinnovato anche quest'anno a Trani, seppur in forma certamente diversa rispetto a quanto accadeva fino al 2019, la devozione dei tranesi non è mancata anche in questa occasione. Durante la lunga notte di diretta sui canali social di Telesveva e Trani News24.city sono stati migliaia coloro che via web hanno assistito al Santo Rosario animato dall'ordine secolare dei servi di Maria e dai pochi fedeli presenti nel rispetto delle restrizioni anti-covid all'interno della chiesa di Santa Teresa per non correre rischi di natura sanitaria, i fedeli che si erano prenotati precedentemente si sono alternati ogni ora durante la notte all'interno della chiesa per consentire a più persone possibili di assistere ma sempre rispettando le regole imposte. Preghiera, fede, devozione e totale affidamento alla Biata Vergine Maria addolorata, quello del giovedì santo è un rito storico già presente sin dal XIII secolo nella zona posta in prossimità del castello Svevo di Trani. Da 200 anni la chiesa di Santa Teresa è la sede dell'Arciconfraternita della Dolorata che nel 2008 ha festeggiato il bicentenario dalla fondazione. Un culto sentito dalla cittadinanza che da sempre vive compatto su questo momento delle festività pasquali nel segno di una tradizione che si rinnova di anno in anno e che in questo 2021 ancora segnato dalla pandemia è riuscita ad adattarsi al contesto storico senza lasciare soli i propri fedeli i quali anche a distanza hanno potuto affidarsi alla propria Vergine Adolorata anche senza la tradizionale processione. Il simulacro di Maria è comunque riuscito a raggiungere i suoi fedeli. Il Santo Rosario notturno si è concluso con un momento di preghiera tenuto dall'arcivescovo della diocesi Monsignor Leonardo Dascenzo alla presenza anche del sindaco di Trani a Medio Bottaro. Affidiamo a lei tutti i nostri malati, a lei affidiamo tutte le persone che se ne stanno prendendo cura, affidiamo tutti i nostri cari che sono morti a causa del contagio e affidiamo tutte le persone che stanno lavorando per combattere e sconfiggere il contagio.